Assessore Tripoli, la sicurezza in un luogo come questo è importante. Lei è la delega della Polizia Municipale. La Polizia Municipale ha un ruolo fondamentale anche nel controllo di questo luogo. Sì, buonasera a tutti. Stiamo monitorando tutta la parte esterna e tutta la viabilità che riguarda tutta la zona di Aspra e Santa Flavia. Ovviamente garantiremo sia alle persone di poter girare in sicurezza e anche di poter sistemare bene le macchine e di poter avvicinarsi al lab vaccinale in sicurezza. Quindi terremo tutto monitorato per tutto il controllo. In sinergia con la protezione civile? La protezione civile è tutta l'associazione che ci stanno dando una mano sia all'interno della struttura che all'esterno che sarà vigilata 24 ore. Vuole fare un appello anche lei alla vaccinazione? Sì, io quello che dico sempre è che prima ci vacciniamo tutti, prima ritorniamo alla nostra vita, ritorneremo ad avere tutta la libertà di poter fare in democrazia quello che vogliamo rispettando sempre le regole.